La statua in marmo bianco dedicata a Leonardo da Vinci in occasione del cinquecentenario dalla sua morte apposta sulle rive dell'Arno per volontà della comunità di Ponte Buriano guarda proprio a quel ponte romanico scelto secondo i massimi studiosi da Leonardo per lo sfondo della sua gioconda, quel ponte così bello ma anche così fragile. Come dissi nel convegno a Rezzo circa un anno fa qui si sta rischiando il collasso improvviso. A lanciare l'allarme per l'ennesima volta è Massimo Ricci tra i maggiori esperti dell'architettura del Brunelleschi che più volte si è speso anche per il ponte romanico che collega a Rezzo e il Valdarno. La prima fase del restauro è praticamente conclusa ma questo ponte non può essere riaperto al traffico pesante. La volta non è fatta con mattoni, la volta è fatta con scaglie di pietra, con scapoli di pietra sono stati messi con molta malta. La vibrazione scuotendo questi elementi basta andare sotto per vederlo crea delle zone dove questa malta viene persa e quindi proprio dove il ponte ha bisogno di comprimere per star su noi li andiamo a levare la continuità strutturale. È la presidente della provincia di Rezzo Silvia Chiassai ad annunciare che c'è in progetto un ponte alternativo senza il quale il restauro non ripartirà. Abbiamo fatto una proposta che è compatibile con tutte diciamo le limitazioni ambientali, i collegamenti stradali e via dicendo per poter realizzare un'opera che sia un'opera di calterizzazione quindi cioè strumentale a poter operare sul ponte ma che permetta al traffico leggero e ai mezzi pesanti di passarvi e quindi di risolvere, di non creare più problemi per la popolazione e di risolvere momentaneamente anche quello per le aziende.